Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ovviamente grazie a can game corner andremo ad aprire un box di dune quindi ovviamente ragazzi se volete supportarmi anche se non mi supportate per niente però comunque vi facciamo contenti trovate il link del loro store qua sotto in descrizione con il codice sconto 2023 cappello vi portate a casa carte singole e prodotto sigillato con il 10 per cento di sconto inoltre ovviamente se volete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon ball no dragon ball no one piece trovate il link del instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamo un attimo a vederci cosa possiamo trovare anche se credo che ormai lo sappiamo tutti e poi andiamo a spacchettare bene ragazzi da come potete vedere le carte interessanti sono un po perché abbiamo un boato di carta con logo del 25esimo tra cui maghi del legame e dell'unità rivoluzione sincrona che sarebbe un pool senza senso anche il drago cremesi non mi dispiace anche secret va benissimo con amici grazie poi vabbè abbiamo noir anima svincolata roba visas la nuova carta che darà un supporto interessante diciamo così a dark world poi roba inferno bel roba illusionist che anche questa è interessante ma rimaniamo su rivoluzione che mi interessa sicuramente molto di più poi va bene abbiamo altre quarter century meno rilevanti poi abbiamo il drago cremesi ma sta poco la versione della carta dark world secret che sta a 10 15 euro e poi a scendere carino questo runic però diciamo che the secret non mi va di sbusta quella da 3 mettiamola così oh bene adesso si può iniziare a spacchettare che diciamo era quello che volevo fare sin dall'inizio ma che spreco le carta vabbè però ragazzi per le per le figuri ragazzi no pianeta terra per favore scusami dalle figurine degli io cioè non vedo l'ora di tirare fuori la roba che abbiamo visto prima e spero tanto sia rivolto o una quarter century perché effettivamente io ho saputo che il nostro mio amico gaming tonight ne ha sbussata una la cosa che un po mi tranquillizza è che diciamo non hanno i pool delle starlet e sono molto più semplici da pullare tipo una ogni due o tre box quindi la possibilità che ce l'abbio pure io è abbastanza alta adesso andiamo a vedere allora abbiamo lo stardust worm che comunque ragazzi questo set esce praticamente in concomitanza dell'anniversario di 5ds dell'uscita di sin quindi praticamente questo set è un elogio all'era sincro da come potete vedere dal mostro dai supporti tipo cremesi o da questa carta che è palesemente u6 o da questo che è palesemente il polvere abbiamo dei delfini grenosaurus citazione al primo grenosauro uscito nello strutture deck zexal os poi sincro overtop e già la prima ma belle ultra erano tutte poco interessanti quindi va bene carta un chained ma sembra simpatico ci sta alla fine poteva andarci sicuramente molto peggio però mettiamola così carta da 5 euro ultra rara ci sta assolutamente andiamo con il secondo e vediamo adesso non vorrei tirare fuori tutti i pool adesso e tipo rimanere alla fine con niente abbiamo la trappola del disegnatore che ha disegnato l'infernobel poi zito zaurus carta che se non sbaglio riprende una carta mosso normale sempre tipo dinosauro molto meno giocosa ma più cruda poi abbiamo vabbè diabolica sincro world confield che è una delle carte che ho annunciato poi realm resonance unchained e carta manadium che a parte questo che è fighissimo ragazzi che artwork spettacolare sembra uscito da magic ma vabbè il card manadium che nel pratico come mazzo è stato tipo un po' un enorme grande flop ma vedremo adesso se usciranno qualche altro supporto decente mettiamola così allora abbiamo o carta samurai super pesante cazzo dopo che gli avete elevato il link volete provare ancora a farlo risuscitare grande con avi poi abbiamo bermot carta unchained carta e volzar che nel pratico il mazzo non a merda prossimo pack andiamo a vedere la carta col cremisi poi storage pod magic ah un magic chiave nuovo eh però che cazzo ci faccio con un rank 12 vabbè giara giara poi sincro world unchained e urre dies ok dopo non andrò a leggere la carta molto bellino come artwork nessuno ne ha parlato probabilmente non serve a un cazzo fermi ragazzi che tra poco esce una cosa senza senso quindi se volete supportare questo canale rispetto a canali come gaming tonight the game toda vi invito a iscrivervi e mettere mi piace lo so che a voi non cambia niente ma a me da un supporto enorme perché prima di fine anno devo arrivare a 5k e l'anno prossimo dopo superare tutti gli altri quindi se volete darmi una mano grazie mille soprattutto a chi lo farà chi non lo fa invece c'ha la madre che batte un po' a civita ma vabbè non giusto detto questo vi lascio al video andiamo col prossimo a parte che ha red eyes ovviamente molto probabilmente adesso le carte che usciranno in questo set for me danno un po' quello che sarà il meta prossimo con noir i supporti bow rescue ways che sono forti le robe sincro che sono forti e poi mettiamola così ragazzi il nuovo meta arriverà e qua si gode e qua si gode un botto non posso urlare perché mio fratello studia medicina di sotto e se attacca a urlare lui viene di sopra e questo rivolto gli fa fa un volo però vedrò io il mio anche a questo giro l'ho fatto eh mettiamola così eh tanta roba tocca trovare la sling vabbè abbiamo questo arcosauro secret levati da i coglioni dubito e imbustiamo la carta più forte di questo formato vi stavo dicendo che sincro sarà forte grazie a questa carta poi ovvio i mazzi del nuovo meta usciranno con age of overlord e non so che fine faranno questi però nel senso lui è onesto il suo adesso lo fa e io è in tasco 40 euro adesso devo vedere perché volevo montarmi sincro e se riesco a recuperare gli altri due a un prezzo mezzo umano sarebbe male visto che tanto uno ce n'è uscito e già 40 45 euro ce li siamo risparmiati allora se ci esce poi anche la carta del venticinquesimo me posso ritenere più che soddisfatto eh allora bremot e il nuovo buco trappola che è praticamente buco trappola ma banna carino tengo da parte lo tengo in considerazione però nel senso non credo di giocarlo mai allora abbiamo ice prison questa stardust worm gaia over qualcosa carta unchained double head dino e altra carta dino prossimo pack teoricamente ci rimane ancora una secret e tre ultra e poi un po' di super ma vabbè permetto che tra le super non ci dovrebbe essere niente di troppo interessante allora carta micanko carta altre guest ecco secret no non mi ricordo se è secret ultra però la carta micanko quasi quasi non mi dispiace eeeh no questa drytron porca troia mamma mia due mazzi uno che mi fa più sboccare dell'altro per drytron c'è ancora il viettram in testa mamma mia che periodaccio quello urs artico mazzo del merda è uscito in un set con le collector che se non ricordo male era antichi guardiani penso è stato l'unico no al primo l'unico set con le collector fallimentare cioè non c'era niente di umano dentro incredibile poi quei set successivi ci hanno messo in tutti i mazzi forti allora unchained e volsaurus e sentinella della tisana bella tistina anche se sarebbe stato bello un mostro tisana allora andiamo col prossimo andiamo a vedere ormai ragazzi il mio l'ho fatto che cazzo me ne frega adesso qua ci potrebbero essere 65 comuni allora abbiamo scrap iron questo che vabbè dalla telecamera sembrava normale dai darabocchi carino e per gli zombie poi vedacalant carta rescue ace evo tile folis evo sarlios e la carta elusinist o carina questa come ultra mi va più che bene anzi era una di quelle che volevo tirar fuori soprattutto perché da l'uscita del set a oggi è salita di prezzo siamo arrivati sugli 11 euro perché se non ricordo male l'ho visto giocare in despia quindi potrebbe essere quello il motivo che ha fatto salire il prezzo però comunque ci sta alla fine come vi ho detto nel video la meccanica interessante è da vedere adesso quando usciranno altri supporti come effettivamente si evolverà se finirà come un drago link che praticamente ogni carta drago diventa un supporto per quel mazzo qua potrebbe essere ogni carta elusinist diventerà un supporto per il mazzo allora andiamo col prossimo abbiamo small cruffal new world star cornfield jurassic power synchro world synchro overtop no no vabbè ho detto che la volevo trovare no aspetta non ho detto che la volevo trovare ho detto che la carina c'è differenza però vabbè dai supporto runic mazzo che verrà ripintato boh tra due settimane poi vedremo se konami decide di mettergli fontana 1 cosa che potrebbe essere molto interessante e molto furba da fare perché il mazzo cosa chifo l'unica versione bella era con i naturi e poi mi levi la trappola grazie allora abbiamo formazione nuovo mondo carta samurai sorpresante secondo me prima o poi lo tornerà in qualche modo gli faranno qualcosa che farà tornare questo mazzo a essere un problema quindi boh staremo a vedere emergency doom star che poi non capisco perché la konami è così tanto innamorata di questo mazzo a carta altercast perché effettivamente fa schifo a tutti però ogni espansione ma un supportino così onesto e alla fine finiamo come è stato il mese scorso mazzo t1 giocava boh 40 startini e se vola ancora esplodesse quel mazzo è merda allora abbiamo dinosauro altra roba samurai samurai superpresante questo è quello che penso del mazzo ovviamente poi come minimo ho piegato una carta che tra 6 anni varrà 10 euro perché non c'è reprint animal e magnum de reaver era interessante non mi ricordo cosa fa vedo dopo allora andiamo col prossimo non so se si poteva tirare di super po no aspetta era una carta interessante che faceva tipo chimera vabbè cioè la livello di vocazione parlava allora abbiamo magichiave viola quibelt beermont beta evolution jara carta rescue ace e un altro tistina per me sarà il mazzo tisana e basta allora andiamo col prossimo abbiamo diabolica scrap iron million pillola dell'evoluzione che comunque ragazzi hanno fatto un mazzo dinosauro per i livelli 6 perché boh uh un'altra carta illusionista carina mettiamola da parte e hanno fatto sto mazzo con i livelli 6 e quindi roba come boh frustosauro ultimate in prima è salito a tipo 60 euro ma che senso ha vabbè scelte di konami eh allora abbiamo finis che comunque la konami potrebbe darmi supporti infiniti tra cagogo e decenti invece fa supporti per i mazzi dinosauro livelli 6 ma what? un'altra? ma te dirò me sta anche best meglio l'illusionist di prima però ok doppia ultra uguale a sto punto mi aspetto anche la colla si la collector la carta del venticinquesimo tanto per visto che la box è palesemente folle allora abbiamo zitto muto scrap iron u6 versione moto confiat jurassic power e buco trappola se mesce pure il terzo allora abbiamo supporto pure breath of the distina acqua quando ci sono delle waifu e sono capelli colorati sono sempre delle belle tope poi abbiamo pillola dell'evoluzione doomstar animal e ha fusione armamenti che è una delle carte che avevo rivelato che è tipo di spiegamento fusione ok dovrebbe stare tipo 2-3 euro boh come box non me la metto c'è revolution adesso ho detto se c'è la carta con il logo il venticinquesimo ho fatto jackpot altrimenti è un box onesto diciamo che il mio l'ho fatto eh resonance carta nembrelia grenosaurus e boh un'altra cosa perché la kanami continua a sopportare gli archetipi perché c'è una fanbase stupida vi piace ragazzi smettete di giocare il drive per favore allora abbiamo carta purelli daidara diabolica new world gaia animal over va bene doomstar e altra carta dell'usimist non sbaglio ce ne dovrebbe essere una anche secret quindi non le troveremo tutte mi dispiace andiamo col prossimo andiamo forse la magia data per fondere la secret abbiamo acqua chorus breath of the tistina emergency vada calant jurak power nemrelia e altra carta red eyes allora ragazzi ci sono rimasti tre pari trovare la carta incredibile del mondo che è il revolto o il mago doppio bello a cui faranno tipo tre versioni differenti con lo sfondo colorato differente e quello sarebbe bellino da pullare nel senso konami o magic corner ha tipo un boxettino con quella roba e altra carta illusionist dai 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 su c'è credo anche se sono rimasti due pack c'è credo perché me l'avete messo in fondo allora oh no niente altra carta illusionist le volevamo trovare tutte bam e il resto ovviamente non c'è niente perché è impossibile che mettano due pull nello stesso pack e andiamo con l'ultima abbiamo scrap iron carta pure carta segnale del distina dai 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 i delfini e niente dualist genesis è il set da cui uscivano i primi sincro e dove usciva lo stardust carina interessante la citazione il primo set ovviamente perché sono dieci anni e quindi top bello e va bene ragazzi i pack sono finiti diciamo che abbiamo trovato quello che volevamo fondamentalmente poi oh se c'era anche la carta del venticinquesimo di lui o venticinquesimo dell'altra carta con i due maghi ti dirò sicuramente non vado a dire no che schifo però diciamo che almeno uno di loro è uscito e ovviamente dovevo rifarmi su Luca che aveva trovato la carta con l'oghino quindi diciamo io non potevo rimanere ovviamente a mani buoni detto questo ragazzi fatemi sapere qua sotto con un commento se avete recuperato le volte se avete sbustato questo set e soprattutto nel caso cosa avete sbustato detto questo ragazzi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti